Buongiorno a questo signore è un infianto. Mi ha insegnato in questa sera un caraviglio asato qui, ma ancora più lungo per dire grazie, 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 il fatto che sono ripetitiva lo sapete. Si diceva che se il polifillatullo avesse un corrispettivo culinario, questo sarebbe senza il violino e quello di extraordinario. E quindi, visto che queste meravigliose nonciulle sono esattamente ciò che per me politicamente incarna, questo insetto fantastico che è il polifillatullo, e loro sono delle piccole polifillatulline, in un certo senso, con le antenne e con tutto il coraggio che le porta a mettere davvero a rischio magari le cose, facendo delle cose magari non banali, assolutamente non convenzionali, però proprio per non mangiare merda, e lo possiamo proprio dire, visto l'etica e la sanità a livello proprio di genuinità delle cose che ci avete propinato, direi che è proprio il caso di dirlo, insomma. Ci sono delle polifillatullo in noi, che vivono un po' sugli alberi, anche loro, sui monti, e fanno queste cose straordinarie ed è straordinaria, perciò per voi, il nostro amico Polifillatullo, che è tenero e morbidino. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. 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 I love you. I love you. I love you, 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 I love you, I love you, I love you. I love you, I love you.